Dal 24 al 29 luglio torna il Passioni Festival. Sabato e domenica si parte con tre grandi appuntamenti, tutti dedicati al Sommo Poeta. Sì, è il Passioni Dante in tour, così lo abbiamo chiamato. Saranno tre grandi mete, tre grandi luoghi evocativi e suggestivi. Inizieremo sabato pomeriggio a Gargonza, in Monte San Savino, la domenica mattina ad Arezzo Città e la domenica pomeriggio a Poppi, al Castello di Poppi. Per cui, insomma, un modo per riavvicinare tutti al grande poeta, al grande personaggio della cultura mondiale, quale è Dante, e ci saranno tanti eventi durante queste tappe, durante questo percorso che abbiamo organizzato con il Centro Guide di Arezzo. Ci sarà Fanfagna Gargonza, Stefano Pasquini ad Arezzo, Andrea Franceschetti a Poppi. Una grande occasione dove tutti si possono prenotare. Anche per questa edizione 2021 si rinnova la collaborazione e la sinergia con il Centro Guide. Abbiamo pensato proprio nei 700 anni della morte di Dante di fare un tour pensato, incentrato sulla figura di Dante, ma chiaramente incentrato sul tema dell'esilio. Quindi un territorio, quello nostro, che è ricco di posti che sono stati frequentati dal Sommo Poeta e che noi tra il 24 e il 25 luglio porteremo a visitarli, quindi i nostri ospiti.